In Puglia sempre più pazienti potranno beneficiare della tecnica dell'analisi del respiro per la diagnosi precoce non invasiva delle patologie oncologiche. Di questo e delle attività del CERBA, il centro regionale di Brett Analysis, ospitato all'interno dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, si è parlato nella sala conferenze dell'oncologico nel corso di una giornata di approfondimento. Questo è un progetto che è partito per la diagnosi preventiva attraverso un macchinario molto simile allo spirometro, attraverso il quale con l'esame dell'espettorato si verifica l'esistenza di un metabolita che può indicare la presenza di una patologia oncologica. Siamo partiti con il mesotelioma e con il cancro del polmone, ma stiamo estendendo il progetto stesso di ricerca per la diagnosi preventiva con la stessa modalità, quindi con l'analisi del respiro del colon retto. Il test del respiro consente di determinare precocemente le alterazioni metaboliche di natura fisiologica, patologica o legate a esposizione ambientale. Per effettuare l'analisi del respiro si utilizza un macchinario particolare, il campionatore Mistral, che lo raccoglie ed elabora una sorta di impronta digitale del respiro. Quello che analizziamo sono i metaboliti gassosi contenuti all'interno del respiro, quindi sono dei marker, come si fa per tutte le altre patologie, come verifichiamo nel sangue o nelle urine, che però in maniera molto poco invasiva, può aiutare a fare una diagnosi precoce anche di una patologia importante, una patologia cronica. Adesso stiamo facendo dei trial clinici, sia per patologie polmonari, in particolare il mesotelioma e il tumore al polmone, sia anche per patologie digestive, lanciamo un nuovo screening per il cancro al colon retto.